Ancro, si schiera anche la musica, un concerto all'Avena Ponte Tresa, nel Mare Sotto, al servizio di Roberto Troian. Quel controllo, quell'ecografia, mi salvò la vita. Ma, cioè, ma voi vi rendete conto io come sono stata fortunata? Spettatori, coristi del Jean Paul Second Quae, rappresentanti delle istituzioni, volontari dell'Associazione Chaos, medici, tutti insieme in un'emozionante serata all'Avena Ponte Tresa, per dire no alla paura sia alla prevenzione, perché il cancro al seno si può battere. La percentuale di guarigione per tumore al seno oggi supera il 90%, vogliamo arrivare al 100%, quindi non abbiate paura, rivolgeteli ad un medico tutte le volte che qualcosa non va. 53.000 in uomini casi in Italia all'anno, 1.000 solo in provincia di Varese, in donne sempre più giovani, ma la prevenzione cresce e la paura diminuisce. Io posso dire di avere sconfitto la paura del cancro e lui di certo non ha sconfitto bene. Come vedete i miei capelli sono cresciuti, sono diventata nonna e io adesso sono qua e canto. Come vedete i miei capelli sono un po' di caoste, in ottobre. Come vedete i miei capelli sono diventati, sono diventati, è un po' di messa. Grazie.